Ragazzi ben ritrovati sul canale, con Iari abbiamo scelto la giornata più fredda dell'anno per provare a pescare qualche perca Oggi siamo in uno spot, che è uno dei spot famosi d'Italia per lo street fishing Perché oggi andremo a fare pesca in città con esca artificiali Speriamo bene, speriamo di sopravvivere a questo freddo Lo sarà l'ostacolo difficile Ci stiamo già congelando le mani, ho detto uno degli spot famosi d'Italia Però dovrei specificare che è praticamente il più famoso per lo street fishing perché siamo ad Adria Magari non è uno degli spot più emblematici ma dopo ci andremo E ora voglio parlare un po' della mia attrezzatura che utilizzerò oggi A partire dal mulinello perché mi è arrivato proprio ieri Diva Exceller LT Questo è un 2000 e secondo me è un mulinello perfetto per chi vuole iniziare a pescare a spinning, light spinning È un mulinello che pesa veramente pochissimo ma è molto resistente come tutti i mulinelli Diva È un piccolo carro armato e l'ho imbobinato con il Diva J-Braid Grand 006 L'ho imbobinato proprio ieri appena scartato Sono 135 metri di trecciato ormai praticamente in tutti i mulinelli che uso Sto utilizzando il Diva J-Braid perché mi ci trovo veramente bene Poi ho messo uno spezzone di fluorocarbon e voglio iniziare con la montatura Dropshot Con un piombino da 10 grammi l'obiettivo è Lucio Perca Però se viene qualcos'altro siamo comunque felici Comunque avrò occasione di parlarvi di questo bellissimo mulinello anche durante la pescata Come canna utilizzo una solid tip che è un prototipo per cui non vi posso dire altro Già abbiamo visto molta gente a pesca perché ci fanno le gare proprio di street fishing che hanno come target il Lucio Perca Come seconda specie target c'è l'astio e anche tante altre sorprese Speriamo di scappottare perché io non ci ho mai pescato ad Atria Ghiari sì un'altra volta però non siamo esperti del posto Allora partisco Partiamo Primo lancio Di solito un mulinello mi piace se mi piace il suono della sua frizione Questo mi piace Tu pure usi una solid tip per maggior sensibilità Oh un cormorano Oggi sarà lunga Sarà una giornata di tanti lanci Poche mangiate Speriamo siano quelle giuste La pesca del Perca è molto lenta A drop molto spesso io do dei colpi senza muovere il piombo per far muovere solamente la gomma C'è l'acqua densa questo qua Madonna E' prossima al congelamento Tadà Tadato L'ho chiamato Ma come l'hai chiamato? L'ho chiamato Cazzo dici? Prima emozione Vabbè ci sono Ho rotto la montatura a drop E visto che non mi vado di farla mi metto a gig head Vediamo con cosa Il trecciato era nuovo Adesso è già putrido Adesso è già putrido Alla ricerca di queste creste Questi vampiri con le pinne Che speriamo oggi escano Poi si pesca pure comodi Guarda quanta gente Ma tutti lì stanno Da recupero lineare sul fondo Mangiata? Sì 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 caro Sì 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 Non era grosso Abbiamo delle mangiate veramente impercettibili Noi peschiamo ultralight Noi siamo esperti nell'ultralight E non riusciamo Non riusciamo comunque a cavarne uno di pesce Qui secondo me è un po' più sfigato come può Che m***a è? Dove non aveva mangiato di un lato? Provaci Hai visto i piccolini che scappavano? Sì sì No Andrea Chiari Ma anche recuperando veloce A me mi dà Ma che hai anche dato Non capisco È roba piccola Non lo so Guarda 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 Eccolo Bello Aspio No tira però È aspio dai No è una Ecco cos'erano Una brem per la schiena Oh ma si sentivano le botte Eh vabbè Primo pesce che vediamo Lasciamolo andare Comunque erano loro Da una certa in poi abbiamo iniziato a sentire tutte botte Probabilmente si sono spostate Non presa l'egit ma pesce Guarda Guarda Uno fa cadere l'esca Pieno di botte Eccolo No Questa è la perca Questa è la perca L'ho lasciato cadere E mi ha mangiato Boh Vabbè Niente Ragazzi Questa che è un'alborella Bella Moltispecie c***o Tutti per la schiena Però vabbè Ora metto il falcetto con cui ho preso il micro perca ad Amsterdam Vediamo se anche qui ad Adria funziona Dei gamberi Stanno intrecciati in un filo Iari ne ha slamato uno Sotto i piedi Com'era? No Piccolo Vabbè però sarebbe stato il nostro primo perca Pesce Vai? Sì Bravo Buon f***o Arriverà Arriverà Stiamo avvicinando all'edicola Pesce Sì Cos'è 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 E' lui E' lui Iari Ha conquistato Il perca Questo è più piccolo del mio di Amsterdam Sì sì Però è più di ormai Bella cresta Dettini cereale Grande Iari 15 pescatori al momento presenti in questo spot Basta Spiriamo domani Se ci riserverà qualche sorpresa in più Più di zero Ragazzi abbiamo guadagnato finalmente lo spot di Adria L'edicola Siamo arrivati presto stamattina Perché ieri ci siamo fermati a cena qua E abbiamo dormito qua Eccolo qua Lo spot più bello di Adria Ieri c'erano veramente tantissimi pescatori in questa zona Oggi siamo solo io e Iari Perché è molto presto Speriamo di prendere il perca In quella zona lì Aggiustiamo la frizione del mio Acceler Sperando di usarla a dovere oggi Inizio il drop Iari ha già iniziato E via C'è un po' di vento oggi rispetto a ieri Incaio al primo lancio Iniziamo bene Car miseria No 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 Sì 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 Pesce Perca finalmente Ragazzi come sempre nella pesca chi la dura la vince Ieri siamo venuti per vedere lo spot Mezza giornata e oggi subito in pesca E ci è venuto a trovare questo piccolo vampiretto Speriamo di far meglio Lo rilasciamo Ciao bello Il drop shot ha funzionato Adesso dobbiamo alzare la taglia L'Acceler mi ha regalato il primo pesce legit Adesso dobbiamo farlo cantare Con la frizione Sarà dura con i perca Oh oh Bello No non è pesce Non è pesce Cos'è Plastica Facciamo anche plastic cleaning La Ciao Ci prende Ne ho preso uno Perca Perca Sto facendo il video Sì Sì Dai venite a pesca Sì stiamo arrivando Grandi Sì Tu stavi ieri di là no? Eri quello che tutti hanno detto il più bravo Grande Hanno detto che fai dei brutti video Chi è che l'ha detto? Dell'agente a scuola nostra Ha ragione Si torna a soffrire qua fuori Ragazzi Lora Che era quel pezzo di canna che hai recuperato? Che è successo? Si stacca a posto Inizio Vai Vai Inizia la sfida Devi prendere un aspio Eh Marco Sì? Cos'è? Tirastrano. Eh? Sì? Cefalo pesce di mare più o meno che Iari ha voluto prendere in questo contesto street e adesso se lo gode. Eh, non vale nulla però. Sì, caro. Ho preso a walkie. Biodiversità. Se l'ha mangiato sul fondo così, una botta clamorosa. Pesce. Sì. Piccolino, però dovrebbe essere lui. Sì. Si. Più piccolo di quello di prima, sullo sciaddino. Belle crestine. Eccolo. Questo è più bello. Questo è più bello. Se riesci, sì. Beh, da no, no, no. Bellino però, dai. Due, oh, due pesci su due lanci. Finalmente il nuovo Exceller mi ha dato un pesce decente. questo sarà sui 30? Forse. Due pesci in due lanci dopo ore di niente. E lo rilasciamo. Grande Iari. Bello? Eh, la chiave è lo sciad verde. Eh, bellino. Ah, è il prezzo del mondo. Sì. Bellino. Bella cresta. Ma che rilascio. Quello. Prova quello lì, piccolino. Lo muovi lentamente. Guarda lì, guarda lì, guarda lì. Guarda lì. Ah, è da solo. Non c'è niente che lo mangia. Un cefalo buggato. I puriperca sono assurdi, eh, che si attivano tutti insieme. E poi per ore... E basta. Per ore non senti niente. E lei? E lei? E brem per la schiena. Bravo. Questa tappuzza la giornata. Altra brem per la schiena. Bellissima. No. No. Ma ha inseguito un aspio. Bagliari. Altro perca. Taglia considerevole. No, ma... Non lo so, è appena cascato. Guarda. Ma ha tolto la coda. Ha appena calato. Questo vento ci sta cacciando. Quindi andiamo via. L'esperienza tattica conclusa. Abbiamo pescato ieri qualche ora. Esplorazione dello spot. E oggi siamo venuti più cattivi. Dalla mattina siamo arrivati subito nello spot buono, l'edicola. Però secondo me per le ore che abbiamo pescato potevamo prendere più pesce. Ma non hanno collaborato anche gli altri. Sì, anche più grandi perché la taglia era veramente piccola. Però ci siamo comunque divertiti. Spot nuovo. La filosofia dello street fishing per eccellenza. Pescare in mezzo alle macchine che passano. In mezzo alla gente che guarda. E tirar fuori comunque dei predatori simpatici. Anche se stronzi. Purtroppo non ho testato a dovere il mio nuovo Exceller. Con un pesce giusto che mi facesse slittare la frizione. Ma ci sarà sicuramente tempo. Grazie Iari. Grazie a voi per la visione. E se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Lasciate un like a questo video. E noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao.